E' stato un incontro interessante e importante oggi con le due presidenti del gruppo, la Camera al Senato, Deborah Serracchiana e Simona Marpezzi, per testimoniare il segnale di vicinanza al mondo produttivo delle imprese, ai comparti economici del nostro paese. Grande attenzione da parte del Partito Democratico ai temi del mezzogiorno, delle politiche sociali, attenzione più deboli, ma grande attenzione anche ai temi dello sviluppo che si produce attraverso investimenti nelle infrastrutture, nella defiscalizzazione legata agli investimenti nelle aree ZES, nello sviluppo del porto e dell'aeroporto in quest'area del paese. Siamo vicini davvero nei fatti, non con chiacchiere a parole, ai temi, alle problematiche, alle esigenze del mondo produttivo del mezzogiorno e della città di Salerno e di tutto il paese. Con piacere oggi accogliamo in Camera di Commercio a Salerno le capogruppo al Senato e alla Camera del Partito Democratico, due figure importanti della politica italiana, due signore, quindi credo che sia un'occasione per avere un colloquio su quelli che sono i temi più importanti che toccano la nostra provincia, come la pandemia ha impattato sull'economia salernitana, in certi versi in maniera negativa purtroppo, in altri in maniera positiva, perché sicuramente abbiamo avuto settori come quello agroindustriale che ha goduto di due anni oggettivi di grande espansione. Avremo occasione di parlare anche dei problemi delle infrastrutture del territorio, quindi solleciteremo il Partito Democratico a essere vicino alle iniziative che il territorio salernitano presenterà e di cui ha bisogno.